Vorrei fare all'Avvocato Reci e al Presidente Spinosa una domanda, l'ultima prima di passare oltre. Avremo anche le domande fatte da alcuni ragazzi delle scuole ai nostri relatori. Vi chiedo di contenere la vostra risposta, se possibile, in dieci minuti o un quarto d'ora al massimo perché abbiamo approfondito tanto questi temi interessanti ma siamo un pochino in ritardo con la scaletta. Volevo chiedere quindi questo, ricollegandomi appunto a quello che ha detto Stefano nel suo intervento parlando di falange armata carceraria. Nella riunione di Enna del 1991 si decise che successivi attentati o comunque azioni terroristiche sarebbero state rivendicate con la sigla falange armata. Come nacque ed ebbe modo poi di svilupparsi appunto il rapporto tra la falange armata e le organizzazioni criminali, mafia, andrangheta inizialmente e poi come si è passati al collegamento con le organizzazioni terroristiche ad esempio nel caso della Uno Bianca. Ultima curiosità è come è stata usata la falange armata anche nel progetto dei depistaggi di Stato. Chi parla per primo? Lei è avvocato, sì sì va bene. Intervengo solo brevemente per dire che la falange armata trova epifania con l'omicidio di Umberto e quindi abbiamo certezza anche processuale che i primi attori della falange armata furono il clan Papalia quindi Domenico Papalia in particolar modo l'esponente dell'andrangheta più importante al nord Italia e i servizi segreti che furono gli istruttori del clan Papalia sia per l'omicidio mormile sia per le rivendicazioni a nome della falange armata. Rivendicazioni che avevano un evidente significato politico e che vanno lette sia in relazione al testo di quelle rivendicazioni sia ai tempi e quella che per primo fece capire che si trattava di una cosa molto più che seria del 27 ottobre del 1990 avviene nel momento in cui e avviene nel momento in cui ad opera dell'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti comincia una strana partita con cui come fatto periodicamente nei decenni passati probabilmente Giulio Andreotti stava recidendo dei rami secchi si apriva un'altra partita che è quella della falange armata e che portò alla Seconda Repubblica Attori furono, lo dicevi correttamente tu, gli uomini di Cosa Nostra per decisione di Salvatore Rina cioè del capo di Cosa Nostra e per la prima volta nella storia Cosa Nostra ufficialmente nell'autunno-inverno 91-92 aderisce a un progetto palesemente politico, palesemente eversivo palesemente distruttivo dell'ordinamento costituzionale per quelli che erano eppure dell'unità dello Stato probabilmente per quelle che erano le indicazioni che venivano da quei comunicati e aderisce a una partita che è già in corso aderiscono anche altri elementi a questo gioco che diventa un gioco eversivo che serve sia a dare indicazioni rispetto a delitti da compiersi sia soprattutto a dare indicazioni su delitti commessi in alcuni casi certamente commessi dagli stessi che si occuparono poi dei testi, delle rivendicazioni sia a lanciare dei chiarissimi messaggi politici la vicenda della falange armata è una vicenda che ha diretta attinenza con il mondo carcerario non solo per il fatto che la falange armata nasce come falange armata carceraria ma anche perché in realtà c'è stato un solo processo per un presunto all'epoca venne ritenuto uno dei telefonisti della falange armata che era per l'appunto un collega di Umberto Mormile un educatore penitenziario della mia provincia della provincia di Messina che viveva a Taormina che si chiamava Carmelo Scalone e che fu arrestato alla fine del mese di ottobre del 1993 in un mese in cui il progetto della falange armata stava arrivando al suo compimento mancava poco e che stava passando per delle manovre che videro protagonista la banda dei fondi neri del SISDE con dei ricatti palesi che in quel momento al momento in cui furono arrestati i vertici del SISDE gli ex vertici del SISDE arrivarono anche a un ricatto che raggiungeva il Quirinale e la persona del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro che infatti il 3 novembre del 93 fece quel proclama a reti unificate che meriterebbe diciamo una ottima esegesi parola per parola cominciò con io non ci sto io non voglio prendere prendere molto tempo Giovanni Spinosa ben meglio di me è in grado di spiegare il progetto eversivo della falange armata mi permetto di dire che si tratta di una cosa che come molte altre delle quali abbiamo parlato che ha avuto mi permetto di dire anche una epifania nel processo sulla trattativa Stato-mafia per iniziativa di un signore che si è proposto come testimone sul progetto della falange armata dicendo un cumulo di balle l'ex ambasciatore ex direttore dell'organismo di coordinamento dei servizi di sicurezza anche egli della mia provincia Francesco Paolo Fulci che è stato capace di indicare i presunti responsabili del progetto falange armata e delle rivendicazioni poi confessando che uno dei 17 nomi che egli aveva fatto in realtà era stato da lui calunniato perché era soggetto col quale egli aveva questioni personali però io sono ben convinto e ci sono molte ragioni per ritenere che sia così che in realtà il progetto falange armata è un progetto che come tante vicende è ben conosciuto da alcuni uomini e alcuni apparati dello Stato è sconosciuto ai comuni cittadini ma rappresenta un po' uno di quegli interna corporis che hanno fatto la storia vera del nostro paese io mi auro che arriverà il giorno in cui anche sulla falange armata potremo conoscere esattamente come è andata noi finora conosciamo solo la parte dell'andrangheta di cosa nostra guarda caso perché è da lì che sono arrivate fonti autorevoli che ci hanno consentito di descrivere l'adesione di quelle organizzazioni criminali a questo progetto eversivo manca la parte della diciamo adesione di apparati istituzionali a quel progetto questo guardate e mi piace ricordarlo oggi ricordando Giovanni Falcone purtroppo attiene a molte deviazioni del potere nella nostra storia ci sono vicende che sono state utilizzate anche come armi di ricatto tra poteri tra esponenti del potere legale operando naturalmente sotto traccia e queste cose quindi sono rimaste la falange armata e una nella conoscenza solo di pochi personaggi che poi non sono sicuramente pochissimi ma comunque sono rimasti interna corporis guardate per questo volevo ricordare Giovanni Falcone su questo molti di voi ricorderanno certe vicende che hanno riguardato la magistratura del nostro paese lo si è detto correttamente Giovanni Falcone della vita associativa della magistratura italiana fu una delle più note vittime e non solo Giovanni Falcone ma nei decenni successivi ci sono stati dei personaggi appartenenti anch'essi all'ordine giudiziario che segnalarono il cancro che aveva reso patologica la vita delle lobby interne all'associazione nazionale magistrati dette correnti in realtà organismi che pur essendo enti privatistici si muovevano un po' al modo di lobby o più probabilmente di cosche e queste cose le disse negli anni 2000 Luigi Temagistris e ci fu la reazione furiosa dell'associazione nazionale magistrati contro di lui queste cose le disse pochi mesi fa o pochi anni o banco un anno fa probabilmente il dottor Antonino di Matteo e fu aggredito da una campagna della magistratura associata oggi che vediamo solo alcuni giornali pubblicare la corrispondenza fra il personaggio più importante dell'associazione nazionale magistrati degli ultimi 15 anni il dottor Luca Palamara e una pletora di esponenti di spicco della magistratura associata e anche di quelli che si intendono i migliori quelli che hanno avuto il coraggio di sostenere che erano contro certi andazzi molti esponenti di magistratura democratica abbiamo visto che partecipavano a una sconcia gestione da mercato delle assegnazioni degli incarichi direttivi nella magistratura italiana quando quelle cose erano dette da pochissimi la reazione era queste sono fandonie oggi abbiamo la prova che chi descriveva quelle correnti come cosche era semplicemente un fedele osservatore del principio di realtà purtroppo certe valutazioni su aspetti neri della nostra repubblica non vengono solitamente prese bene dal potere costituito è una cosa della quale ci dobbiamo fare carico secondo me oggi è uno di quei giorni in cui ce lo dobbiamo ricordare per bene il mio augurio è che magari ci siano delle faglie all'interno degli apparati dello Stato che nei prossimi mesi o nei prossimi anni ci potranno dire ancora di più su cosa è stato il progetto versivo della palange armata grazie presidente il microfono io non penso escludo di avere il tempo per 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 fare una ricostruzione della storia della falange armata però alcune cose penso che possano essere l'errore che normalmente si commette che è stato indotto da anni di depistaggio sulla lettura della falange armata è quella di considerare è quello di considerare la falange armata come qualcosa di distinto dal progetto eversivo che prende le mosse quanto meno targato falange armata l'11 aprile del 1990 e finisce nel marzo del 1994 quando la falange armata dichiara di mettere di cessare la propria guerra contro contro lo Stato le fonti di conoscenza che noi abbiamo interne alla falange armata sono essenzialmente sono essenzialmente tre la prima la citata prima Stefano parlando della prima rivendicazione dell'omicidio di Umberto non viene ancora speso il nome falange armata l'11 aprile del 1990 sarà speso due un mese dopo il 22 maggio col nome falange armata carceraria ma certamente sono gli stessi che fanno le successive comunicazioni ed è una rivendicazione che parte dagli autori dall'autore l'organizzatore del delitto ovvero Antonio Papalia mandante Domenico Papalia organizzatore il fratello Antonio la seconda fonte interna che noi abbiamo sulle rivendicazioni della falange armata e tutto quello che noi sappiamo sugli incontri terminati poi nelle campagne di Enna sull'attacco allo Stato da parte di Cosa Nostra sulla convergenza di Cosa Nostra all'interno della falange all'interno di questo progetto eversivo gli attentati saranno rivendicati a nome della falange armata ed è quello che poi puntualmente succede il terzo elemento di conoscenza all'interno della falange armata l'abbiamo dalle dichiarazioni di Alberto Savi che fa ai compagni di Cella Alberto Savi dice io ho un progetto di questo tipo se voi mi aiutate io sono in grado di far fare una rivendicazione da parte di una persona che parlerà con accento tedesco tutte le rivendicazioni della falange armata tutte non molte delle rivendicazioni della falange armata sono fatte da una persona che parla con accento apparentemente tedesco straniero e in particolare tedesco sono in grado di far rivendicare quest'azione che voi dovreste compiere dovreste favorire nel mio nell'interesse di un certo tipo a nome della falange armata queste sono tre fonti di conoscenza che noi abbiamo a proposito all'interno dei delitti all'interno della falange armata sono tre fonti di conoscenza che ci dicono che non esiste una organizzazione falange armata è una è una organizzazione e dei gruppi degli assassini o dei gruppi avversivi o delle alleanze criminali che operano e poi c'è un soggetto esterno c'è un progetto di cui il nome che prende se vogliamo il nome falange armata va bene tutto quello che succede dal 1990 al 1994 capito se noi gli dovessimo dare un nome va bene a cominciare a cominciare dagli omicidi iniziali a finire alle bombe finali e si chiama falange armata inizialmente falange armata carceraria perché il tema del carcere sarà un tema costante ricordava prima Fabio il comunicato del 27 aprile del 1990 27 ottobre scusate del 1990 siamo nella esplosione della vicenda Gladio siamo nell'inizio della fase terroristica della ONU bianca e il momento è il momento in cui la falange armata dopo i vari comunicati iniziali in cui dice ci conoscerete in seguito e minaccia in questi comunicati cinque operatori carcerari dice dopo aver ammazzato un operatore carcerario Umberto Mormille ne ammazzeremo altri cinque fa in un cinque operatori carcerari va bene il 27 ottobre del 1990 dice la falange armata dice noi apriamo da oggi ufficialmente due fronti i fronti saranno due uno politico giudiziario l'altro carcerario il fronte carcerario sarà sempre presente in tutti i comunicati della falange armata basti pensare agli interessi vari comunicati sul DAP ma basta pensare anche all'ultima rivendicazione dell'ultima azione della falange armata certamente coerente con tutti i comunicati ci sarà un'altra rivendicazione degli attentati ai carabinieri nel dicembre del 93 dicembre del 93 gennaio 94 in Calabria che però ha delle caratteristiche particolari l'ultima rivendicazione è quella del palazzo di giustizia di Padova il palazzo di giustizia di Padova viene messa una bomba a nome della falange armata rivendicata dalla falange armata proprio nell'ufficio nell'ufficio esecuzioni della sezione penale ma cos'è l'ufficio esecuzione se non il momento in cui l'azione giudiziaria si salda con l'azione repressiva carceraria e viene simbolicamente messo lì e questa è l'ultima rivendicazione della falange armata l'operazione che è sempre stata fatta è qualcosa di sconvolgente c'era l'attentato la mattina va bene la mattina pensiamo alle attentati l'attentato all'avvocato Fabrizi l'attentato Grau l'attentato l'attentato l'omicidio Grau l'omicidio Fabrizi l'omicidio Klinger attentato la mattina presto va bene o la notte addirittura rivendicazione poche ore dopo la questura interviene sistematicamente sì sì ma la rivendicazione è autentica ma la falange armata non c'entra nulla senza nessuna attenzione senza ad esempio se noi prendessimo l'omicidio Fabrizi la rivendicazione dell'omicidio Fabrizi ammazzato il 6 ottobre del 1991 a Pescara nella rivendicazione dell'omicidio Fabrizi pervenuta poche ore dopo si dice che era stato dato un avvertimento all'omicidio Fabrizi attraverso un attentato attraverso una minaccia alla compagna dell'avvocato Fabrizi ma perbacco cosa che poi si scopre essere effettivamente vera ma chi poteva sapere di un omicidio di un avvocato di Pescara poteva sapere della 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 di quello che era successo qualche settimana prima alla compagna dell'avvocato Fabrizi ma lo stesso la rivendicazione pensiamo la rivendicazione del maresciallo del maresciallo Garau giunta giunta anche quella poche ore dopo il maresciallo Garau viene ammazzato il 22 ottobre del 91 a Oru anche lì è una rivendicazione che viene immediatamente bollata come inattendibile eppure la rivendicazione del maresciallo Garau è una rivendicazione che viene esplicitamente presentata come una espressione del progetto di militarizzazione dell'intero territorio nazionale il progetto di militarizzazione dell'intero territorio nazionale è da un certo momento in poi il progetto costante della falange armata si afferma si fa conoscere per la prima volta con l'omicidio morose ha un trampolino di lancio con il periodo terroristico della Uno Bianca che va dall'ottobre del 1990 fino al 30 agosto del 1991 dopodiché abbiamo gli omicidi per così dire della militarizzazione ma anche quando poi si passerà gli omicidi alle stragi in Sicilia il concetto della militarizzazione di tutto il territorio nazionale è un concetto permanente che ci sarà sempre pensate alle rivendicazioni dopo l'attentato di Via D'Amelio sono rivendicazioni in nome della militarizzazione del territorio che continuerà con una nuova fase si dice nella pezzola allora ed è quello che puntualmente succede in quello che la stessa falange armata definisce un progetto a più teste un progetto politico a più teste va bene? e cos'è questo progetto politico a più teste? ma non leggete l'interfaccia di quella alleanza eversiva a cui aderisce Cosa Nostra nel febbraio del 1991 ma quando negli atti del processo dell'indagine sistemi criminali leggiamo leggiamo che vi era stata una proposta alla Sacra Corona Unita di aderire a questo progetto e poi leggiamo che la Sacra Corona Unita commette l'attentato di Surbo siamo l'attentato di Surbo siamo alla fine del 1991 non è attentato che viene e siamo non alla fine del 91 siamo il 6 gennaio del 1992 tant'è che è chiamato la strage dell'Epifania la strage contro il treno contro il treno che portava tutti Surbo si trova in provincia fra Lecce e Brindi si portava tutti i migranti li riportava in Svizzera dopo era il Lecce Giurigo che li riportava in Svizzera dopo le vacanze di nattate ma non è forse l'adesione l'adesione della Sacra Corona Unita va bene quando i fratelli Modero pentiti della Sacra Corona ci parlano delle proposte che venivano fatte venivano fatte per alla Sacra Corona per aderire a questo progetto e quando si parla delle proposte che vengono fatte all'Andrangheta va bene anzi dell'avvenuta adessione dell'Andrangheta a questo progetto va bene non si parla di un non si parla di un progetto politico a più teste allora quando si io penso che è vero dobbiamo aspettare che qualcuno ci parli un po' meglio di queste vicende ma molti elementi per dire cos'è stata l'Apalanche Armata noi cominciamo noi cioè non cominciamo li abbiamo da sempre perché sono tutte cose che sono nelle sono nelle carte da sempre va bene e da sempre quanto meno dalla fine degli anni 90 quando tutti i pentiti ricostruiscono le trame tracciate nell'indagine sistemi criminali e allora probabilmente l'errore di fondo l'errore di fondo è quello di sganciare la falange armata da tutto quello che succede che è successo negli anni in Italia che hanno accompagnato verso la prima repubblica verso la seconda repubblica e tornando al tema del nostro incontro la centralità delle alleanze carcerarie e il motore di fondo Marco Meida ne abbiamo già parlato due volte li annoieremo con Marco Meida Marco Meida è un personaggio centrale non solo era presente presenti agli incontri per la liberazione di Cirillo con Adalberto Titta il capo dell'anello o noto servizio e Belmonte il colonnello del sismi io sempre io a leggere gli atti di quelle vicende ho l'impressione che non fosse Titta ad accompagnare Belmonte ma Belmonte faceva lo Schafferdi ad Alberto Titta va bene il primo a dire chi era ad Alberto Titta è Marco Meida che nelle nelle dichiarazioni al giudice istruttore il presidente Alemi l'ex presidente del tribunale di Napoli per quelle verbalizzazioni Alemi ha passato i guai per una vita sia chiaro va bene Marco Medda quando Alemi chiede a Marco Medda ma chi era questo personaggio grosso pare che Adalberto Titta fosse un personaggio enorme e nonostante pesasse quintali riuscisse a far volare aerei leggerissimi in un modo pare che fosse un aviatore meraviglioso dice chi era dice ma io non so chi fosse io posso dire che in un momento in cui stavamo aspettando che arrivasse che arriva a secutolo io gliel'ho chiesto e lui mi ha detto no io sono capo di un'agenzia investigativa che che è d'aiuto agli apparati dello Stato è bellissimo è il primo atto va bene il primo atto in cui noi scopriamo dell'esistenza dell'esistenza di dell'esistenza del noto servizio ma tornando a Marco Medda Marco Medda è certamente presente il 4 gennaio del 91 al pilastro perché c'è la macchina da lui guidata perché ma non solo è presente al pilastro il 4 gennaio del 91 c'è l'omicidio dei carabinieri ma perché lui quella sera è nel pieno del conflitto a fuoco perché riceve una riferita da colpo d'arma da fuoco ad un piede va bene qualcuno si chiederà che ci faceva al pilastro chi l'ha chiamato al pilastro viene dopo questo argomento va bene poniamoci semplicemente il problema come mai era al pilastro perché era al pilastro perché lui era legato a tutti i pilastrini la criminalità pilastrina di Bologna come era legato è chiaro ci sono intercettazioni telefoniche che lo dicono dopodiché quando verrà arrestato due mesi dopo all'esito di un inseguimento che lui in cui lui si è comportato da par suo sparando raspiche di mitra a tutto spiano contro i carabinieri che lo inseguivano fin quasi alla officina di Picone Picone era un camorrista un suo camorrista noto come Baconchi nel garage di Picone verrà trovata una macchina rubata dai fratelli Savi in via della Vittoria sotto l'abitazione di Roberto Savi a Bologna verrà trovata sequestrata e la notte stessa in cui subito dopo il sequestro viene incendiata va bene Marco Medda si trova al pilastro perché lui stringe i rapporti con i fratelli di Sant'Anna per via del fratello Fulvio il fratello Fulvio è stato il suo compagno di detenzione di azioni criminali assieme ad Andraus in varie carceri del nord Italia quando prima dicevamo della importanza del 41 bis e della importanza di un 41 bis oggi ho sentito delle cose che cioè se non fossero drammatiche caro Fabio sapere che questi si scrivono fra di loro se non fossero drammatiche e sconsolanti e sconsolanti io ci farei delle risate sopra va bene perché sono cose fuori dal mondo che questi qui si scrivono fra loro sono cose fuori dal mondo va bene ma quando ripeto lui Marco Medda in questa operazione del pilastro che sarà oggetto di rivendicazioni specifiche da parte della falange armata va bene e Alberto Savi spiega anche qual è il senso di queste rivendicazioni va bene dice anche chi è l'ufficiale dei servizi segreti va bene che aveva in qualche modo ricostruito dato un senso alla vicenda del pilastro va bene con nome e cognome va bene ma mai nessuno su questo personaggio ha fatto delle indagini ora la saldatura all'interno del carcere come vedete emerge in tutti i momenti non si può pensare a una militarizzazione del paese costruita sulla ossatura dei gruppi neofascisti che non sono più nelle condizioni in quel periodo di creare una saldatura del paese una militarizzazione del paese se no i gruppi neofascisti creano una militarizzazione del paese se volete nel 1968 con le bombe dell'agosto del 1969 prima dell'attentato di Piazza Fontana che avevano il senso di dimostrare della loro in varie città d'Italia della loro capacità di essere presenti in varie città d'Italia la falange armata in questo progetto a più teste riesce ad operare sin dall'inizio una capacità di intervento in vari territori dello Stato proprio partendo dalle saldature indocaccelarie e tutto questo ci riporta alla necessità di difendere di dare serietà da tutti i punti di vista di ritornare alla serietà e al rigore iniziale delle misure del 41 da tutti i punti di vista mi trattiamo grazie grazie Presidente adesso passiamo la parola a Marco Bertè grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti